e come appunto eravamo già d'accordo la lezione di oggi è dedicata completamente a risolvere insieme questa simulazione d'esame di mercoledì scorso che ho pubblicato anche in forma pubblica non sotto la trafila di Classroom, pubblicato direttamente su GitHub nell'organizzazione che si chiama TDP esami, vediamo un attimo se riesco a farla vedere, eccola qua, vieni su, ecco qua in questa organization che si chiama TDP trattino esami c'è questo progetto 2021-0526 simulazione dove nel branch master chiaramente c'è il testo e io adesso lavorerò all'interno di un branch che si chiama la soluzione in cui vi troverete appunto il codice che faremo oggi quindi chi vuole lavorare, chi ha già fatto la simulazione si trova già il progetto nel proprio fork e quindi può vedere lì, chi invece non ha ancora fatto può fare normalmente un fork di questo progetto ricordo si trova sotto TDP trattino esami, ok? mentre invece il progetto privato che vi salta fuori quando accettate l'esame con GitHub Classroom si chiama esami online, mi spiace c'è un piccolo, un po' di confusione sul nome delle organizzazioni ma in realtà la fantasia era finita su come chiamare queste cose non commentiamo più di tanto il testo insieme, supponiamo che lo conosciate bene tutti quindi partiamo direttamente con, diciamo così, l'implementazione delle prime parti del progetto partiamo dal punto 1, andiamo in ordine, quindi il punto A ci chiede di selezionare dalle apposite tendine una città e un anno tra il 2005 e il 2013 estremi compresi quindi la prima tendina conterrà tutte le città possibili la seconda tendina conterrà gli anni tra il 2005 e il 2013 una volta che queste sono selezionate allora l'utente può premere il bottone crea grafo e quindi viene creato poi il grafo quindi il primo passaggio da fare, partiamo dal punto A, il primo passaggio sarà quello di popolare queste tendine, far sì che dentro queste tendine ci vada a finire qualcosa nel caso della prima tendina dovremo mettere l'elenco di tutte le città e nella seconda tendina, vabbè, semplicemente questi anni l'elenco di tutte le città come lo ottengo? nel mio database andiamo a prendere il database Yelp abbiamo la tabella business e nella tabella business c'è una colonna che si chiama siti quindi noi di fatto dobbiamo estrarre tutte le siti che sono presenti all'interno di business all'interno di una lista quindi la tendina non dovrà contenere tutti i business ma dovrà contenere solamente i valori unici, i valori univoci di queste città quindi probabilmente ci conviene fare per semplicità una query che vada semplicemente a estrarre una lista di stringhe che costruisce i nomi delle città proviamo un po' a ingrandire così si vede meglio quindi questa query potrebbe essere qualcosa come dammi tutti i nomi delle città presenti nella tabella business quindi select distinct city from business e magari lo ordiniamo anche in ordine alfabetico visto che la devo mettere in una tendina almeno che sia un po' carina da vedere order by city e quindi verrà fuori una cosa di questo genere quindi io parto da questo costruisco un metodo nel DAO che estragga queste informazioni e queste informazioni me le vado poi a memorizzare all'interno del model in modo che poi il controller possa semplicemente prendere questa lista e usarla per popolare la tendina quindi possiamo partire dal basso ad esempio partiamo dal DAO implementiamo questa semplicissima query quindi prendo il clips che avevo già aperto sul mio DAO, YelpDAO e ci aggiungo un metodo che in qualche modo posso copiare da getAllBusiness possiamo chiamarlo public lista di string non sto a fare un oggetto city perché poi in realtà la città non ha altri attributi rispetto a semplicemente il nome stesso quindi posso tranquillamente usare semplicemente una stringa getAllCities in cui farò la query che abbiamo appena visto che è testato su Aldi copia copia incolla e sistema gli spazi ok fatto questo chiaramente il metodo procede sempre come tutti i metodi del DAO prepariamo una lista di string come risultato uguale new non sting ma string new array list e poi volendo appunto possiamo tranquillamente copiare buona parte degli altri metodi sono tutti simili quindi io lo sto rubando dal metodo getAllBusiness che è qua sotto quindi apro connessione poi chiaramente ciò che faccio nel result set sarà diverso e poi alla fine ritorno il risultato quindi qua dentro lo faccio poi a parte connessi un punto close return result scusate non qua ma dopo c'è ancora una parentesi chiusa in cui c'è il catch SQL 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 exception poi gestiamo l'eccezione questo connessi un punto close andava dentro qua ho fatto un po' di forse facevo prima scriverlo ma alla fine all'eccezione noi possiamo ci capita qualcosa da semplicemente segnalarlo io preferisco semplicemente non catturare l'eccezione ma rilanciarla con un commento così viene stampata nella console quindi throw new runtime exception exception in cui dico error in database e soprattutto stampo di passo l'eccezione non fate mai l'errore di stampare io ho lanciato un'eccezione voi potete anche scrivere sulla console eccetera ma non fate mai l'errore di non stampare o di ignorare questo messaggio perché altrimenti in fase di debugging vi trovate un messaggio del tipo errore nel database e non sapete in quale metodo si è verificato quale sia il messaggio d'errore e che cosa sia andato storto quindi diventa difficile impossibile da debuggare in pratica quindi l'eccezione se non la potete correggere nel codice almeno stampate fate in modo che venga stampato scampata tutta l'informazione che vi serve allora qui abbiamo questa query dove semplicemente dobbiamo estrarre queste siti e mettere nella lista quindi abbiamo result.add result.add di result set .getString della colonna che si chiama city ok quindi questo dovrebbe essere un metodo che mi dà una stringa una lista con l'elenco di città sotto forma di stringa visto che c'era già un metodo una classe test.dao possiamo anche fare in fretta e dire ad esempio qui c'era facciamo un po' di query ma poi noi possiamo aggiungere una query in più modificando il test così verifichiamo subito che questo metodo funzioni dao.get all cities ci facciamo stampare la lista quindi provo a far run di questo test dao e vabbè fa la query di prima che verificava già che funzionassero i metodi di base e poi quest'ultimo stampa è l'elenco delle città che abbiamo appena calcolato ok quindi a livello del dao questo l'abbiamo fatto bisogna portarlo su fino al controller quindi bisogna far passare questa informazione nel model quindi estenderò il model che per ora è un pochino magro gli darò un altro metodo public list di string get all cities java.util.list e semplicemente potrebbe essere una istanziale il dao quindi yelp dao dao uguale new yelp dao e poi return dao punto get all cities questa è la soluzione più semplice se ogni volta che qualcuno chiede al modello quali sono le città qual è l'elenco della città il modello immediatamente chiama il dao e si fa dare questo elenco rispondo a una domanda di Alessandro che mi chiede riguardo al metodo del dao dice se anziché fare una throw exception facessi una print stack trace va bene comunque per quello che facciamo noi può andare bene comunque perché in entrambi i casi abbiamo un messaggio sulla console e ci accontentiamo di quello il vantaggio della trovo è che eventualmente a livello superiore quindi il model potrebbe eventualmente gestire questa eccezione magari stampando un messaggio di errore più umano e non direttamente la trace sulla console mentre se invece fai la print stack trace quel messaggio comunque va sulla console e quindi non è possibile ormai l'hai stampato e quindi non è possibile in qualche modo nasconderlo se tu volessi avere un'interfaccia più ordinata nei confronti dell'utente ma noi diciamo così questo tipo di eccezioni dovrebbero saltare fuori solamente in debug se sbagliamo scrivere la query c'è un errore di sintassi un errore di connessione quindi non fanno parte della gestione normale dell'applicazione ok le eccezioni che dobbiamo sempre gestire sono quelle che coinvolgono le azioni dell'utente se l'utente clicca da qualche parte di sbagliato io devo fermarmi e gestirlo senza generare un'eccezione un problema di questo genere di query il database è un problema che noi dobbiamo prima risolvere in modalità debug quindi diciamo preupponiamo che quando il programma è completo non si verifichino più e quindi non ci interessa gestirle ordinatamente ai fini dei nostri esercizi ok allora torniamo al modello e quindi una volta che ho questo posso tornare nella mia classe controller e chiamare questo metodo getAllCities del model per popolare la tendina noi ci stiamo questo metodo potete dire non serve a niente perché il controller non può direttamente chiamare il DAO ecco noi ci siamo dati la regola che il controller deve sempre comunque passare dal model per tutte le informazioni il controller non sa se esiste il DAO non sa come è fatto eccetera a costo di scrivere magari qualche metodino in più allora nel controller io devo riempire quella tendina che si chiama combo box città eccola qua devo ovviamente ancora dire di che tipo è questo qual è il tipo di oggetto contenuto dentro la tendina e noi sappiamo abbiamo deciso che sia uno string non abbiamo creato un oggetto specifico per la città e devo popolare questa tendina attenzione a non sbagliare dov'è che posso popolare questa tendina io ho il metodo ho questi due metodi in fondo un metodo initialize che viene chiamato automaticamente quando il controller viene creato e poi il nostro metodo set model che viene chiamato come da abitudine dal nostro codice entry point adesso qui vado su entry point che dopo aver creato l'fxml crea il modello e chiama il metodo set model per collegare praticamente il modello al nostro controller l'unico posto in cui possiamo riempire questa tendina è in realtà il metodo set model perché quando viene chiamato initialize il modello non è ancora stato creato cioè il metodo initialize viene chiamato di fatto qua quando faccio il load dell'fxml in quel punto viene creato il controller e viene chiamato initialize a questo punto il controller non conosce ancora il modello e quindi se noi provassimo a fare model punto qualcosa otterremo null pointer exception quindi siamo obbligati ad aspettare un attimo che perlomeno il modello venga creato e venga passato al controller e quindi nel set model faremo tutte le informazioni di inizializzazione che al controller servono ma che può fare solamente conoscendo il modello avendo l'informazione del suo modello quindi qui a questo punto possiamo tranquillamente riempire la tendina che si chiama combo città get items prendiamo la list la collection di item della tendina e ci aggiungiamo add all model punto get old cities ok e questo dovrebbe essere sufficiente per popolare quella tendina con l'elenco del città in ordine alfabetico per chi non ci crede lo possiamo provare facciamo run e questa tendina contiene questo elenco ok chiudiamo l'applicazione già che ci siamo possiamo riempire la seconda tendina con gli anni dal 2005 al 2013 quindi che cosa può contenere questa tendina innanzitutto il tipo di dato il tipo di dato possiamo scegliere si usare integer come numero intero oppure year come la classe year della libreria java.time ma visto che rappresenta un anno io userei l'oggetto year che è fatto opposta quindi decido che la mia tendina combo anno conterrà oggetti tipo year dove ovviamente vado ad importare java.time e la popolo torno sempre qua sotto la popolo con i numeri con gli anni dal 2000 mi dimentico sempre 5 al 2013 quindi for int anno uguale 2005 anno minore uguale 2013 anno più più e per ognuno di questi anni prendo la combo degli anni prendo gli items e dagli items aggiungo un anno year.of anno ricordiamoci che year è l'oggetto year.of è il costruttore di un nuovo oggetto che parte dal valore numerico dei suoi componenti in questo caso semplicemente dal numero dell'anno e quindi abbiamo popolato questa tendina con i valori degli anni lo salvo con i valori degli anni oltre che le città con gli anni dal 2005 in poi Giuseppe mi chiede non sarebbe più corretto chiedere al database quali anni compresi dal 2005 e il 2013 contiene il database stesso sarebbe uno scrupolo in più non sarebbe sicuramente sbagliato qui se io faccio riferimento al testo il testo è molto più semplice mi dice guarda dalle apposite tendine selezionare un anno dal 2005 al 2013 punto questo è ciò che mi dice il testo io mi sono ottenuto il testo Giuseppe sta dicendo guarda che in realtà in quegli anni lì potrebbe darsi che ci sia un anno in cui non ci sono revisioni e quindi quell'anno lì non avrebbe senso selezionare nella tendina è uno scrupolo in più che se vuoi puoi farti poi magari l'utente rimane un po' stranito dal fatto che vede degli anni ci sono dei buchi in mezzo e non capisce perché però si potrebbe benissimo fare sarebbe una complicazione complicazione diciamo così uno scrupolo in più che non è richiesto però questo testo attenzione che noi qua selezioniamo l'insieme degli anni ma non abbiamo ancora fatto nessun calcolo sulla base della città e quindi ci sono degli anni in cui alcune città sono a zero anni in cui altre città sono a zero eventualmente quindi a priori un anno in cui nessuna delle città abbia nessuna revisione è abbastanza improbabile come caso non so se per caso hai fatto l'acquirito e hai saltato fuori ma mi sembra un caso molto improbabile invece se uno dicesse no una volta che ho scelto la città vado a prendere gli anni in cui in quella città ci sono delle revisioni questo avrebbe molto più senso però me lo dovrei agganciare diciamo così all'evento di cambio della tendina quindi all'onection della prima tendina tutte le volte che cambio il volume della prima tendina rivado a ricalcolare gli anni della seconda tendina ma tutto questo non è richiesto quindi ricordatevi la regola d'oro è cercate di fare la soluzione più semplice possibile non complicatevi la vita se non è necessario ok non c'è nessuno che vi batte le mani se avete fatto una soluzione più complicata di quella che era richiesta l'importante è che faccia ciò che è stato richiesto possibilmente bene quindi tra due opzioni scegliete sempre quella che vi semplifica la vita ok il punto A l'abbiamo finito direi per mettere l'utente di selezionare le due progetti tendine queste cosette qua quindi io per semplicemente tranquillità mia faccio un piccolo commit e qui ci sono un po' di cose questo esempio punto lo chi è che l'ha fatto non lo so cancelliamolo fxml control altresdao yaddao dbconnect ok punto 1A siamo nel branch giusto sì branch soluzione ok quindi posso farlo ok passiamo al punto 1B punto 1B ci chiede di creare il grafo in cui i nodi siano tutti i locali commerciali presenti nella città selezionata c e per cui esistono delle recensioni nell'anno specificato quindi qui dobbiamo andare a personalizzare quello che è l'elenco dei business selezionando solamente quelli che sono che contengono delle recensioni nell'anno specificato quindi dovremmo probabilmente implementare anche qua una nuova una nuova query che ci permetta di estrarre questa informazione quali sono i business nella città selezionata e per cui esistono delle recensioni nell'anno specificato allora io posso provare a scrivere una query che vado a cercare select asterisco from business innanzitutto della città specificata quindi where city uguale non so mettiamo phoenix perché mi sta simpatica e quindi abbiamo il primo filtro cioè non estradiamo tutti i business ma solamente quelli di una certa città in più aggiungo un secondo vincolo che il come si dice il il business locale abbia abbia almeno una recensione nell'anno specificato allora questo si può fare in tanti modi diversi si può fare con una join a me quando ho pensato di risolverlo mi è venuto in mente di risolverlo con una query annidata semplicemente quindi and faccio una sotto query in cui calcolo il numero di recensioni è maggiore di zero ok numero di recensioni di quel locale con quella in quella in quell'anno e quindi questo numero di recensioni sarà una sotto query quindi fatemelo fare così ops vado a capo un po' malamente ma almeno riesco a far sopravvivere questo commento quindi il numero di recensioni anche qui faccio una sotto query select visto che mi serve solamente il numero faccio un count from di che cosa delle recensioni reviews ok where allora dove ovviamente siano recensioni del nostro locale quindi business.id .id sia uguale a reviews .business.id quindi stiamo parlando di recensioni del locale che abbiamo selezionato nella query esterna and e la città ovviamente già impostata da sopra dal business e l'anno però queste review devono essere solamente nell'anno si chiama year credo come si chiama la colonne in reviews si chiama ah no c'è una review date quindi devo prendere solamente l'anno di review date uguale che non so 2005 prendiamo quello del testo visto che c'è un esempio proprio su phoenix prendiamo lo stesso anno andiamo giù 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 eh 2005 sì ok ok quindi qua sotto sto estraendo solamente le review del 2005 di questo business conto quanti sono e se questo conto è maggiore di zero allora questo business risulterà selezionato proviamo a vedere se funziona esegue SQL lui mi ha dato 28 business diversi che sappiamo che dovranno essere i vertici del grafo se io vado a vedere negli esempi della soluzione con phoenix 2005 il grafo mi dava proprio 28 vertici quindi sembra che la query sia giusta vediamo se la query funziona io provo a cambiare l'anno 2006 ok questo numero adesso sono 279 cambiano tantissimo di anno in anno chiaramente quindi facciamo attenzione quando facciamo le nostre prove 2007 ce ne sono 952 eccetera eccetera ok quindi lasciamolo sul 2005 sappiamo che non è tanto grande e questa è la query che vogliamo fare l'ultimo punto è che queste business sono stampati in ordine casuale ovviamente come vengono fuori dal database mentre ho la query aperta mi chiedo ha senso o mi serve avere un ordine specifico con cui questi business vengono ritornati beh ovviamente business ID non mi dice nulla come campo ma vediamo un po' il testo cosa mi chiede di fare più avanti più avanti dovrò avere una tendina che contiene tutti i locali ok e quindi magari visto che questa tendina contiene tutti i locali mi converrà mostrarli in ordine alfabetico mi servirà dopo mi servirà per il punto 2 però già che ci sono già che ho la query aperta non mi costa nulla qua in fondo aggiunge un order by by city crescente non city stupido il nome del locale si chiama business name business name ok quindi business name a america a bar o caffè eccetera eccetera Giovanni mi chiede se computazionalmente è più nervoso uno stato query o una join dipende da molti fattori diciamo che il motore di ottimizzazione del database dovrebbe essere in grado di fare le trasformazioni necessarie per poter diciamo così risolvere la query in modo migliore possibile adesso qua si tratta di capire se l'ottimizzatore è abbastanza intelligente da capire che sto facendo un count maggiore di zero e quindi mi interessa alla fine solamente sapere se ci sono delle righe oppure no con la join chiaramente sto devo fare una join con un group by e quindi le righe che non hanno recensioni diciamo così automaticamente vengono filtrate forse in questo caso forse la join può essere più efficiente ma bisogna anche vedere quali sono gli indici che sono stati definiti in queste tabelle per le chiavi esterne essenzialmente la review sarà una chiave esterna su business ID che in questo caso viene usata comunque nella sottoquery nella join verrebbe usata a livello di join però devo dire qui stiamo parlando di query che sono 0,3 secondi anche nei casi in cui quando abbiamo visto magari gli anni in cui c'erano più 2013 magari a più revisioni no 2012 perché il 13 secondo me non è completo per quello ci sono di meno ci sono 3.300 diciamo così business e la query ci mette comunque 0,3 secondi quindi diciamo che non non mi pongo il grosso problema di complessità in questa query che comunque ha una complessità tendente a lineare così a occhio ok quindi vanno bene entrambe le soluzioni mi sembrano abbastanza paragonabili se uno volesse saperne di più potrebbe giusto a livello di dov'è che è finito vabbè non mi ricordo ma mi sembra che se voi prendete una query e ci mettete davanti la parola explain il database anzi come risultato vi fa vedere non il risultato della query ma il piano di esecuzione della query quindi lui dice guarda la query primaria usa where usa l'ordinamento degli elementi stimo che abbia 112.000 righe e poi c'è una query una sotto query che usa vedete qua usa le chiavi esterne business id e prevede di usare questa per quanto riguarda l'implementazione della query quindi qua dentro ti dice essenzialmente qual è la sua strategia con cui lui il database pensa di implementare questa query quindi uno può provare query diverse va a vedere le strategie prova i tempi se gli interessano le prestazioni chiaramente ha lo strumento per capirlo l'importante è che non ci sia scritto da nessuna parte che lui fa una scansione completa perché a questo punto ci sarebbe scritto un full scan da qualche parte anziché using where ci sarebbe scritto full scan allora vuol dire che stai scandendo un'intera tabella senza usare nessun indice di appoggio e questo chiaramente rallenta le operazioni questo vale sempre mettete explain davanti a una query e lui vi fa vedere il piano di esecuzione calcolato dunque Nicola mi chiede in questo caso non è necessario fare un group by no in questo caso avendo fatto una sotto query questa sotto query sotto ok seleziona prima di tutto seleziona l'anno quindi seleziona un sotto insieme con queste condizioni un sotto insieme di review e poi fa il conto mi serve un numero solo praticamente questo sotto query viene concettualmente poi l'ottimizzatore del database è più furbo ma concettualmente viene eseguita una volta per ogni business quindi per ogni elemento della riga esterna quindi praticamente noi facciamo select asterisco from business tutti i business per ciascuno di questi lanciamo questa sotto query e che se questa sotto query mi dà un numero maggiore di zero allora questa riga di business la teniamo altrimenti la buttiamo via quindi in questo caso non serve fare group by se avessimo fatto invece una join invece si avremmo dovuto raggruppare per business perché nella join avremmo avuto un business replicato tante volte quanti sono le sue review e poi per contare avremmo dovuto accorparle raggruppando per business in modo da fare il conto di tutte le review di quel business Lorenzo una in poteva andare bene comunque sì avrei fatto un select distinct business id e poi avrei fatto end business id in questa query di data certo un altro modo per non fare maggiore di zero farsi nella sotto query l'insieme di tutti i business id che mi interessano quindi sono dell'anno giusto scusa di review id non di business id il numero di review id quindi l'avrei potuto l'avrei potuto anche fare così allora rispondiamo anche ad Alessandro che ci dice guarda io ho fatto questa query qua e mi chiede se è giusta allora magari scriviamola un po' meglio allora fax review business id e questo però cosa mi da mi da l'elenco di tutti i business con tutte le loro review insieme ok a me però interessa solamente l'elenco di business non mi interessa dicendo in altro modo se io lo ordino per business id vedete che lo stesso business id lo stesso business id compare più volte se ha più review io però poi nel mio grafo lo devo avere una volta sola quindi in realtà questi campi qui li dovrò collassare raggruppare in uno solo e quindi buttare via tutte le informazioni che sono relative alla review che in realtà non mi servono quindi in questo caso dovrò fare ad esempio un group by business punto business id e nell'asterisco riportare solamente le informazioni che arrivano dalla tabella business perché la tabella review in realtà non mi serve e quindi help punto business ah l'ho chiamata b scusate b ok quindi in questo caso abbiamo le nostre 28 righe come al solito in cui ho collassato tutti i business identici tutte le coppie business review collassate solamente nell'elenco della business perché le review non mi servono più corin mi dice perché mi fai un count quando a me è sufficiente che questo esista e sì però la sottoquiri mi deve ritornare un valore allora io controllo che il count sia maggiore di zero che è un modo per verificare se esiste almeno una review l'altro modo che era di fare con la join in cui automaticamente le business che non hanno nessuna review non compaiono nemmeno nell'output dei risultati quindi ci sono vari modi quindi a me il primo che era venuto in mente era quello con la sottoquiri si poteva fare con la join che forse era più rapido ecco tra l'altro se guardiamo fatto con la join il tempo di esecuzione è praticamente lo stesso rispetto all'altro caso quindi è probabile che il database sotto sotto stia facendo le stesse cose non converrebbe calcolare anche la media delle recensioni in questa query sì no forse ne parliamo tra un attimo una buona domanda Georgia mi dice l'ho fatta come Alessandro ma anziché fare group buy ho fatto un select distinct è uguale non mi piace tanto perché innanzitutto select distinct business id ti restituisce solamente i business id mentre a noi serviranno poi anche i nomi almeno il business name ci serve ok quindi dovresti fare almeno un distinct di più campi in questo caso si potrebbe andare bene lo stesso nel senso che io vado a estrarre solamente alcune colonne e di queste colonne impongo un distinct e quindi praticamente sto buttando via tutti i duplicati e tutte le altre colonne diciamo che la cosa chiave è ritornare solamente le colonne della tabella business e non quella della tabella review in modo di non avere delle replicazioni dello stesso business tante volte quanti sono in review quindi appunto fare con la distinct di un certo insieme delle colonne fare con un group buy di un certo insieme di una colonna chiave a me piace di più group buy perché lavora sulla chiave però diciamo così il risultato è lo stesso quindi probabilmente la join veniva più naturale è indifferente come vedete il risultato è lo stesso il tempo di esecuzione è lo stesso la prima che vi viene in mente all'esame che siete sicuri di far giusto va bene non c'è nessuna preferenza per un tipo di query piuttosto che un'altra e Giorgia poi dice poi io puoi lavorare ah e decido di lavorare di più sul lato java quindi anziché farti restituire solamente gli oggetti business Giorgia ci dice ho creato un id map per prendere i business con quell'id e sta rispondendo alla mia osservazione che se fai select b punto distinct business id hai solamente gli id e ti mancano tutti gli altri dati allora lei ha detto ma visto che nel DAO avevo già il metodo che mi dava tutti i business completi allora mi faccio probabilmente chiamo con il metodo del DAO mi salvo tutti i business e poi con questo secondo metodo prendo solamente gli id dei business che corrispondono ai criteri selezionati dalle tendine e poi con la identity map vado a pescare i singoli elementi certo arrivi sicuramente allo stesso risultato forse lavori un pochino di più ecco perché è tutto sto codice java che deve andare a pescare gli elementi ma sicuramente arrivi il risultato ricordate che la metrica principale in fase d'esame è il tempo che ci mettete per arrivare a una soluzione che per voi è giusta che è giusta e quindi siete sicuri di arrivarci quindi scegliete la strada che preferite veramente ok quindi se trovate quella ok quindi noi abbiamo fatto quello che il primo il primo il primo punto cioè i nodi i vertici del grafo questa query ci da i vertici allora query aspetta un attimo dobbiamo ancora fare il metodo del DAO il metodo del DAO che stiamo per scrivere ci darà i vertici del grafo e poi dovremo pensare agli archi che sarebbe poi il punto C ok allora cominciamo a sistemare il punto B e sul punto C riprenderemo la domanda che ha fatto Giuseppe sul calco della media della recensione perché qui c'è infinitamente un ragionamento da fare che può essere utile allora andiamo avanti adesso basta chiacchiere apriamo il DAO e dobbiamo fare un metodo che vada a estare non tutti i business ma solamente i business di una certa città di un certo anno allora io di nuovo spudoratamente copio il metodo get all business che c'è già è già fatto ringraziamo Alberto che l'ha già fatto e lo modifico in business by city and year in cui gli passerò ovviamente come parametro la città la città e come secondo parametro l'anno year vuole ovviamente java.time e la vera differenza è che al posto di questa query banale di una riga dovrò mettere una delle query su cui abbiamo discusso finora metto la mia solo perché ma non come abbiamo visto una qualunque delle altre che abbiamo discusso andrebbe altrettanto bene dove però ovviamente al posto della città Phoenix ci metto un punto interrogativo poi ho sempre i fine linea questa cosa qui la odio tanto tanto e poi l'altro punto interrogativo ce l'avrò dove compare l'anno punto interrogativo maggiore di zero order by poi questo punto new array list il resto è praticamente uguale nel senso che dovrò ovviamente impostare prima dell'execute query devo impostare i parametri quindi statement punto il primo parametro è una stringa set string di primo parametro city ok city è il parametro che questo metodo dovrà ricevere e va a sostituirlo qua il secondo parametro è l'anno che va sostituito qua e quindi lo imposto statement punto set questo punto è un intero secondo parametro l'anno che è un oggetto di tipo year quindi devo trasformare un intero posso prendere il get value che mi ritorna il valore numerico dell'anno e quindi a questo punto dovrei poter fare la query eseguire la query avendo impostato questi due parametri e il resto è tutto uguale perché mi crea semplicemente la lista di business andando a pescare tutti i campi all'esame avremo sempre dei metodi DAO simili già fatti fin dall'inizio molto spesso sì almeno per le classi principali anche perché così vediamo il metodo test DAO che potete usare subito per vedere che tutto sia a posto col database tutto a posto col database la password giusta avete caricato il DB bene eccetera quindi all'inizio c'è un test DAO che richiama questi metodi che semplicemente sono un select asterisco e così come c'è già fatto l'oggetto business con tutte le varie con tutte le varie proprietà visto che è una cosa diciamo così a intelligenza zero fare questi meccanismi per non farli perdere troppo tempo tendiamo già a darvi questi oggetti fatti tenete presente che appunto negli appelli d'esame 50% degli appelli capiterà esattamente questo database e quindi vi daremo esattamente questo test DAO e questo DAO di partenza ok con già questi oggetti ci stiamo allenando su questo database perché poi è uno dei due che troveremo negli appelli di quest'anno ok così la difficoltà non sia andare a scrivere diciamo così gli oggetti per il database ma sia effettivamente lavorare sull'algoritmo questa correzione è registrata certo come tutto ok andiamo avanti quindi questo metodo qui getbusinessbycityaneer lo abbiamo implementato speriamo che funzioni e per diciamo così avendo fiducia in noi stessi proviamo a farlo direttamente da richiamarlo direttamente dal model dove verrà chiamato ovviamente dal creagrafo public per ora mettiamo void poi vediamo se ci serve qualcosa creagrafo al creagrafo dovrà ricevere la città e l'anno che sono che sono quelli che abbiamo stato dal tendine del controller ovviamente no da appunto time allora cosa deve fare questo creagrafo deve creare innanzitutto l'oggetto grafo e poi metterci dentro i vertici quindi che tipo di grafo mi serve allora il testo mi dice di creare un grafo semplice orientato e pesato ok quindi è un grafo innanzitutto lo dichiaro private graph grafo e grafo lo faccio importare da jgraph t e lo inizializzo dis.grafo uguale new allora mi serve un grafo semplice orientato mi pare che si chiami default directed weighted graph è un grafo default cioè semplice orientato pesato questo grafo scusate avevo dimenticato di specificare quelle che erano i generics i generics sono il tipo di vertice business e il tipo di arco che è un arco orientato quindi default weighted edge quindi questo grafo lo creo con questi aggiungiamoli per chiarezza e il parametro del costruttore del grafo ovviamente la classe dell'arco default weighted edge punto class ok poi una volta che ho creato il grafo tra simple directed weighted graph e mi stai dicendo Giovanni che ho usato un simple directed weighted graph anziché un default directed weighted graph onestamente non mi ricordo la differenza forse allora default che non me dice default prevede il loop allora è più corretto simple grazie sono stato pigro non sono andato a guardare sulle slide o sulla documentazione ci ho giocato con l'autocompletamento ma in realtà ho pescato quello sbagliato grazie meglio simple giustamente se default prevede il loop è meglio un grafo simple che esplicitamente li vieti ok i vertici adesso magari possiamo memorizzarci una lista di business dentro il modello fatemela chiamare vertici così mi ricordo che andiamo a a leggere dal DAO quindi dopo che ho creato il grafo vuoto creo il DAO e chiedo al DAO di riempirmi la lista di vertici col mio metodo get business by city in string in cui gli passo la city che ho ricevuto e l'anno che ho ricevuto e una volta che ho questa collection posso aggiungere i vertici al grafo quindi possiamo avere un this.graph non scusate è sotto graphs graphs punto add all vertices di this.graph this.vertici this.vertici è l'elenco dei vertici che ho memorizzato sotto forma di lista voi potresti dire ma non ti serve perché basta che tu vada a prendere dal grafo il vertex set e trovi esattamente gli stessi business sì certo però se gli staggo del vertex set mi vengono fuori disordinati perché vengono fuori da un set la lista mi può tornare utile perché magari mi serve ordinati in ordine alfabetico noi avevamo messo credo un order by dentro uno stack query ok e quindi così li mantengo in una lista e li mantengo nell'ordine voluto ovviamente i vertici di questa lista e il vertex set del grafo ovviamente conterranno gli stessi business ma proprio gli stessi oggetti di tipo business ok ok non ho saltato la domanda Alessandro stavo aspettando il momento per rispondere ok se tutto va bene a questo punto abbiamo creato il grafo almeno i vertici quindi abbiamo risolto il punto B magari se cosa facciamo riflettiamo una string e ci aggiungiamo un bel return di un messaggio string.format che dica grafo creato con percento di vertici e percento di archi barra n e così gli metto dentro il numero il numero di vertici che sono this.grafo .vertexset .size e il numero di archi che sono this.grafo .edgeset .size e così questo messaggio che sto ritornando dal model faccio ancora un passo in alto sul controller dove finalmente ho il metodo crea grafo che è qua dove dovrò estrarre la città da che cosa dalla combo della città punto get value dammi l'elemento selezionato l'anno che l'estrargo dalla combo hanno get value devono essere entrambi diversi da null quindi se per caso if city uguale null oppure hanno uguale null allora non faccio niente txtresult append text parametri obbligatori poi posso migliorare la diagnostica scrivendo bene che cos'è ma per rapidità mi accontento di un messaggio generico potrei scrivere errore generico nel portale ma poi dopo vi arrabbiate se city hanno e questo è il vantaggio di avere ad esempio una tendina che contiene un oggetto l'oggetto hanno e non un numero intero perché a questo punto o è null vuol dire che l'utente non l'ha selezionato o se l'ha selezionato è sicuramente un di quelli che gli ho messo dentro la tendina quindi non devo fare altri controlli dell'errore se tutto va bene a questo punto posso fare message messaggio di risposta dal model punto crea grafo siti hanno i parametri sono già giusti e poi posso stampare questo messaggio txt result punto append text msg così almeno riusciamo a vedere qualche cosa ok allora riproviamo a lanciare l'applicazione qui abbiamo scritto tre metodi diversi uno nel down uno nel mode uno nel control quindi c'è da aspettarsi che magari qualcosa non funziona il primo colpo non spaventiamoci prendiamo il nostro finish del 2005 perché ormai siamo affezionati 2005 crea grafo infatti qualcosa che non va è saltato fuori null pointer exception perché vertici perché vertici è null e questo è qua dentro add all vertices vertici è null ah qui siamo dentro graphs punto class attenzione il modo del punto java 27 vertici è null e quindi probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa risult punto add return result perché vertici sia nulla torniamo nel model quindi l'errore è qua perché mi dice this punto vertici è null va bene this punto vertici l'abbiamo appena calcolato dal DAO guess business by city and near perché questo sia null lo possiamo vedere mettiamo un breakpoint qua per facilità quindi facciamolo eseguire phoenix dov'è p 2005 crea grafo ok a questo punto arrivo a questo breakpoint dove ho city che vale phoenix anno che vale 2005 se provo a eseguire la riga ah ho già un'eccezione qua mi ero concentrato sull'eccezione che era saltata fuori per ultima cioè i vertici erano null ma in realtà facendo passo passo mi sono accorto che c'era un'eccezione prima che dice could not set parameter position to il valore il valore 2005 quindi il problema è nel dao dove c'è il set int allora torno nel dao set int 2 hanno punto get value è 2005 e allora che problema hai perché se 2005 ti 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 year review date uguale no no lo vedo come secondo e poi altre cose non dice questo è l'errore could not set parameter position to quindi si ti l'ha fatto e il 2 no il suo valore era 2005 questo è curioso c'è il punto interrogativo c'è qua il secondo è qua sto guardando scusate questo l'ho risolto ieri è risolto esattamente in questo modo e funzionava set int set int si review date uguale punto interrogativo could not set parameter position to perché caro mio non non lo vuoi fare and put get value restituisce un int and punto get value restituisce un int che è proprio quello che volevo perché questo sto usando il metodo year che restituisce un intero allora qui scusate il commento che non va perché ho tolto gli allora date un premio Mario giustamente perché la query mia finisce qua perché ho tolto gli a capo e quindi il commento va da trattino trattino fino alla fine della riga qui è tutto su una riga sola e quindi certo la versione che avevo ieri non c'era il commento ovviamente perché l'ho fatto per me stesso quindi il problema era che c'era il commento dentro la la query ma andando a capo il commento finisce a fine linea quando io ho cancellato gli a capo ovviamente il fine linea non c'era più e quindi il commento andava da lì fino alla fine della query ok adesso dovrebbe sono quelle cose in cui può andare avanti ok ho creato quindi il grafo con 28 vertici e 0 archi a questo punto se cambio vedo che cambia il numero di vertici ritorno al 2005 ritorno a 28 vertici fate sempre questa prova che se un numero poi mi metto uno più grande e poi torno a quello più piccolo posso tornare a quello più piccolo se tornando al 2005 avessi ancora avuto 2500 vertici vuol dire che mi ero dimenticato di ripulire qualche dato precedente noi abbiamo due dati nel model che sono il il grafo e la lista di vertici ok entrambi ogni volta che chiamo crea grafo li riscrivo da zero quindi devo fare attenzione a non a non avere mai diciamo così una quando ricrevo il grafo diciamo così non avere mai dei dati che arrivano dall'iterazione precedente ma devo sempre fare attenzione a ricalcolarli con i parametri nuovi perché altrimenti rischio di aggiungere vertici a un grafo vecchio oppure non togliere quelli che non servono più ok ok quindi questo è la prima il punto B funziona parliamo del commento di Alessandro che ha chiesto un po' di tempo fa ma perché perché non hai fatto una una identity map qua sui vertici cioè mi stai dicendo guarda che già che fai tutto questo lavoro col DAO passi anche un identity map così questo metodo del DAO ti popola anche la la mappa che ti può servire più avanti sì forse può darsi non lo so ok allora io a questo punto posso dire o mi calcolo già fatemelo dire in un altro modo perché devo spendere del tempo e del codice in più per fare questa mappa se non sono sicuro se non sono ancora sicuro che mi servirà per come l'ha scritto lui per come l'ha scritto Alessandro non voglio fare il processo delle tue parole ma dice ma non conviene passare un identity map sotto inteso così tanto ce l'ho già se mai mi dovesse servire sì non posso dirti di no però se poi non ti dovesse servire hai fatto il lavoro in più ok ci avrei perso quei 30 secondi quei due minuti scrivere righe di codice in più tempo di debugging in più perché devi controllare che funzioni e poi magari non la usi allora io preferisco andare in modo però non ho preferenza personale in modo incrementale questo so che mi serve se poi mi accorgesse che mi dovesse servire anche un ID map per andare a pescare i vertici faccio in fretta ad aggiungerla ma su un codice che già funziona cioè a me quello che diciamo così dal momento in cui io testo il programma funziona poi comincio a scrivere del codice ogni linea di codice che scrivo in più è un gradino di ansia in più che mi sale fino a quando non riuscirò nuovamente a testare il codice e allora riporto l'ansia a zero perché vedo ok adesso funziona quindi io come metodo di lavoro cerco sempre di fare dei passi relativamente piccoli e testarli subito poi funziona ok aggiungiamo un altro passo già il passo che abbiamo fatto prima di ma qui un pochino l'ho fatto anche per cercare di velocizzare le cose a torto perché come sempre quando cerchi di fare le cose in fretta le fai male il problema di questo commento me ne sarei accorto subito se avessi aggiunto una riga al test DAO ok scrivo un metodo nel DAO aggiungo un test e lo vedo subito mi sarei accorto subito dell'errore e quindi l'avrei in realtà corretto molto più in fretta quindi avendo fatto sia il metodo DAO che il mod che il controller e poi solo testarlo avevo un livello di ansia più ampio quindi non mi sentivo di complicare più del necessario dell'indispensabile i metodi che stavo costruendo ok quindi va benissimo l'idea della mappa se ci serve la aggiungiamo se no solo aggiungerla per buona misura per non si sa forse mi sembra mi sembra inutile poi però appunto se vi esce dalla dita va bene non è sicuramente sbagliato poi magari ci accorgiamo che ci serve come dire io non ci sono ancora arrivato alla fine dell'esercizio però sempre ecco io ciò che vedo faccio questo commento perché lo vedo poi nei compiti soprattutto da parte di studenti che magari hanno delle difficoltà a finire l'esercizio quelli che studiano per il 18 o giù di lì ce ne sono li vedi che cercano di impostare le cose nel modo più ricco possibile allora tutte le volte che faccio una query cerco di fare la select più complicata possibile per avere tutti gli archi in un colpo solo cerco di fare l'identity map sempre perché qualcuno ha detto che è giusto farla perché no non è vero la fai se ti serve altrimenti sei solo complicando il tuo codice e se già hai delle difficoltà magari a gestire un codice più semplice figuriamoci in un codice più articolato ok quindi come sempre siete liberi di fare ciò che volete ma non aggiungete complessità se non vi serve Giorgio mi fa un'altra domanda perché creiamo due oggetti DAO nel model perché ogni metodo di fatto se lo crea se gli serve quindi questo metodo getAllSity gli serviva e ha creato l'oggetto quest'altro metodo vi serviva e si è creato l'oggetto voi potreste dire ma no possiamo creare un oggetto DAO unico nel costruttore del model sì se vuoi sì in realtà la creazione di questo DAO è un'operazione a tempo zero perché il DAO non ha un costruttore ok è una classe fatta solo di metodi non ha né variabili locali distanza né costruttore e quindi di fatto creare questo oggetto non usa memoria e non usa e non usa tempo di esecuzione perché non fa nulla semplicemente è un contenitore di metodi se fosse un altro linguaggio di programmazione non Java sarebbe semplicemente un elenco di funzioni che chiamiamo quindi creare l'oggetto non crea nessun overhead computazionale in pratica perché non c'è un costruttore che deve fare del codice non ci sono delle variabili private da inizializzare e così via però se lo volete mettere direttamente nel costruttore del model assolutamente non cambia nulla non ha stato dentro il DAO quindi lo posso prendere e buttare via quando voglio ok qui possiamo dichiarare concluso quindi il punto B giusto che ci chiedeva di creare che ci parlava della creazione del grafo e dei suoi vertici mentre poi il punto C sarà sugli archi e allora ci parliamo e parliamo quindi facciamo fare un commit di ciò che abbiamo fatto finora e lo chiamiamo punto 2 no 1B ok arriviamo alla parte più sugosa che sono gli archi gli archi nel punto 1C e dove mi vado anche a recuperare la domanda che non mi ricordo più si chiamava Giuseppe Giovanni ma l'aveva fatto tempo fa sul no Giuseppe sul calcolo della media delle recensioni cioè quando è che la calcoliamo questa media allora seguiamo prima il testo poi facciamo due ragionamenti per ogni coppia di locali devo calcolare la differenza tra le medie delle recensioni dei due locali nell'anno specificato chiaramente quindi ho due locali chiaramente della stessa città dati questi due locali ciascuno avrà delle recensioni con un valore medio l'altro avrà delle recensioni con un valore medio e faccio la differenza tra questi due valori ci sono due strategie per fare questa cosa proprio perché i due valori che devo sottrarre dipendono solamente l'uno del primo business e l'altro del secondo business allora io posso fare un'operazione che era quella che aveva in mente Giuseppe di dire ma io quando sto leggendo i locali posso aggiungere un campo a questi locali che contiene già la media delle recensioni di quel locale in quell'anno poi quando dovrò creare gli archi semplicemente ho già tutto ciò che mi serve perché andrò a prendere tutte le coppie di archi con due cicli annidati e avrò un campo get media recensioni e faccio le sottrazioni e decido se mettere l'arco con che peso eccetera eccetera ok e va benissimo in questo caso perché perché semplicemente la conoscenza dell'arco dipende solamente da un valore da due valori dei due vertici quindi li posso precalcolare prima e sarebbe sicuramente una buona idea altrimenti se non ci accorgiamo di questo se non ci accorgessimo di questo proprietà di questo dettaglio che in questo esercizio capita potremmo fare la via classica cioè faccio una query in cui vado a estrarre fuori per tutte le coppie di locali e vado a estrarre quello che è il valore medio e faccio la sottrazione tra questi valori medi tra questi valori medi possiamo andare diciamo così in entrambi i modi ok giusto per chiarire il modo 1 chiamiamolo soluzione Giuseppe prevede di aggiungere un campo all'oggetto business che contenga la la media dei voti e questo campo lo andiamo a popolare direttamente dentro il metodo del DAO che si chiamava quello col nome lungo set business by city and here eccetera eccetera qui ci sarà in questo non sarà semplicemente un select asterisco ma dovremo aggiungere anche una media il calcolo di una media allora in questo caso questa query fatta con la sotto query non funziona più bene dovrei passare alla versione fatta con la join o cambiarlo in modo diverso però al di là di quello allora aggiungo anche questo altro campo e lo restituisco quando vado a creare il nuovo oggetto poi quando creo una volta che ho creato il grafo quindi nel model semplicemente potrò fare lo scrivo come ipotesi ok nell'ipotesi di leggere la media calcolare la media recensioni mentre leggo i business allora se fosse così allora diventa molto semplice perché io a questo punto posso semplicemente fare il mio classico doppio ciclo for this punto vertici scusate for business b1 in this punto vertici for business b2 che fa parte di this punto vertici allora vado poi a fare controllo se allora cosa ci diceva il testo se tale valore la differenza tra le due recensioni vanno collegate ad un arco se è positivo se non è positivo eccetera eccetera quindi vado a controllare se b1 punto punto get recensioni che è il campo che non abbiamo che avremmo dovuto aggiungere è uguale a b2 punto get media recensioni ok se scusate se non è uguale se è diverso se allora dobbiamo aggiungere un arco solamente nell'arco in cui è maggiore lo possiamo fare così se b1 è minore di b2 allora ci vuole un arco da b1 a b2 se b1 è uguale a b2 allora nessun arco perché dice che se la differenza è zero non devo mettere nessun arco se b1 è maggiore di b2 lo prenderò poi quando farò la coppia al contrario perché ricordiamo che qua ci sono tutte le coppie possibili e immaginabili devo anche escludere il caso in cui b1 sia uguale a b2 perché non voglio un arco ma in realtà lo escludo automaticamente perché questo minore fa sì che se un arco un business lo confronto con se stesso non sarà mai minore ma sarà uguale quindi con questo allora a questo punto posso aggiungere l'arco graphs.addage visto che devo aggiungere un arco pesato mi conviene usare il metodo di utilità addage in cui in una sola istruzione posso passare sia i vertici che il peso dell'arco di spunto grafo vertici di partenza b1 vertici di arrivo b2 peso dell'arco a questo punto sarà b2 media recensioni meno b1 media recensioni ok quindi questo risolverebbe il problema degli archi avendo l'accortezza di creare quando creo gli oggetti business anche la media delle recensioni nella stessa tabella ok e poi molto semplice questa parte alternativa alternativa sempre secondo questa idea non ho voglia non voglio non voglio complicarmi la vita nel modificare l'oggetto business vabbè mi crea una struttura dati di appoggio potrei creare non un attributo in più dell'oggetto business ma potrei creare magari una mappa che da business mi dà il valore quindi diciamo così questa è l'ipotesi 1 ipotesi Giuseppe l'altra ipotesi potrebbe essere un'ipotesi Giuseppe Bis più mappa ok in cui non modifico l'oggetto business ma creo una mappa per ricordarmi le medie recensioni ricordarmi le medie delle recensioni quindi io a questo punto farò una mappa che mappa i business in double la chiamo medie recensioni che sarà un hash map quello che volete e questa la riempio carica la mappa con il dao cioè dovrò aggiungere chiaramente un metodo al dao per leggere per crearmi questa mappa e questo farà semplicemente una query quindi separiamo le due query quella che mi dà tutti i business che ci abbiamo già avevamo già scritto e quella invece che mi carica solamente per ogni business id può essere l'oggetto business può essere anche solo la stringa come business id dipende un po' come vogliamo fare mi carica questa mappa e quindi abbiamo poi esattamente lo stesso codice di prima quindi dao punto eccetera eccetera poi abbiamo lo stesso codice di prima dove anziché b1 punto get media recensioni avremo qualcosa di tipo media recensioni punto get di b1 cioè andando a semplicemente prendere dalla mappa così è un altro modo per non sporcare quell'oggetto me lo scrivo da parte e creo un altro oggetto creo un'altra query magari mi può far comodo perché così separo i vari pezzi di codice è una scelta anche questa ok Manuel mi dice ho fatto così con la mappa e funziona anche per in tempi più è anche più lui dice è anche più veloce funziona anche più rapidamente perché anche su grafio e su città molto grandi ma in questo caso devo dire che per chi se ne accorgeva di questa possibilità era il metodo migliore perché di fatto faccio solo una query con le medie per le recensioni la posso fare all'inizio la posso fare dopo in queste due ipotesi ma poi sono a posto perché poi al fine semplicemente devo creare gli archi tanto la creazione degli archi non me la toglie nessuno non ho nessun carico sul database mentre nell'altro caso dovrei chiedere al database di fare delle join tra business e business come minimo e anche tra recensioni quindi questa query può diventare grande e il database potrebbe faticare su combinazioni di città un pochino grandi in questo caso in cui abbiamo una funzione peso che dipende solo dalle informazioni che possono essere memorizzate separatamente nei due estremi questa è la soluzione migliore se ci fosse un caso invece in cui diciamo così il peso oppure l'informazione associata all'arco dipendesse anche di un'informazione extra che dipende proprio dalla coppia di città se noi dicessimo quali sono le recensioni fatte dalla stessa persona o fatte nel suo soggiorno della settimana e questa è un'informazione in più che non posso sapere perché quella media pesi del business 1 non sarebbe la stessa se lo accoppio col business 2 rispetto a se lo accoppiassi col business 3 rispetto a se lo accoppiassi col business 4 allora in questo caso non c'è altro verso che andare nel database e farsi dare tutte le coppie se invece in questo caso il vantaggio è che la media che uso per il vertice 1 è la stessa indipendentemente dal fatto che la stia accoppiando col 2 col 3 col 4 allora a questo punto le posso calcolare una volta sola e in questo caso era la soluzione più efficiente se i business fossero stati moltissimi funzionava ugualmente questo approccio sì perché comunque diciamo così era comunque migliore dell'altro ecco perché in ogni caso qui c'è semplicemente un n quadro ma è un ciclo foro interno che va a vedere una struttura data interna quindi c'è una cosa praticamente un n quadro istantaneo nella query magari adesso facciamo la soluzione con la query proprio perché è la più complessa ho una complessità molto maggiore perché non ho solamente i vertici per vertici ma ho anche le recensioni nella query quindi vado a moltiplicare vado a lavorare su uno spazio molto più ampio però come sempre vale la regola la soluzione che ci sembra più semplice da impostare seguiamo quella ok poi chiaro che se uno a tempo ci ragiona prova soluzioni diverse e va a implementare quella più efficiente non a caso nel testo d'esame vi abbiamo proprio scritto fai attenzione che ci sono alcune combinazioni che sono molto lente quindi noi già vi abbiamo guidati a dire provate queste che devono funzionare in tempo ragionevole non andate a impelagarvi in altro quindi se anche trovate una soluzione nel tempo limitato che abbiamo a disposizione all'esame se trovate una soluzione che non è quella ottimale va bene lo stesso ok poi uno ragionandoci con calma riesce chiaramente a trovare i pro e i contro delle varie soluzioni allora adesso commento questo codice e invece andiamo avanti magari a implementarlo nel modo tradizionale come non ci fossimo accorti o diciamo così che era possibile calcolare a parte le medie e poi utilizzarle quello che avremmo fatto sarebbe una query in cui cosa facevo cercavo di fare allora per una singolo business è facile fare la media io devo in realtà devo prendere le coppie di business ok quindi vi faccio calcolare dal database delenco degli archi quindi io potrò selezionare sicuramente il business B1 il business B2 faccio una bella join poi mi servono le revisioni del business B1 quindi reviews scusate non è un selector mettiamo per ora asterisco e poi un from questo le tabelle sono B1 B2 review R1 review R2 reviews scusate manca una S ok questa è la join che dobbiamo fare in cui alla fine ci serve solamente il B1 punto business id il B2 punto business id e poi le medie delle revisioni del 1 e le medie delle revisioni del 2 quindi l'average di R1 punto stars e la media di R2 punto stars ok from queste quattro tabelle dove ovviamente dovrò avere una serie di condizioni di join ok quindi innanzitutto B1 punto business id uguale R1 punto business id R1 punto business id chiave esterna tra B1 e R1 cioè R1 è la revisione di R1 and stessa cosa su B2 B2 punto business id uguale R2 punto business id join su R2 poi R1 e R2 devono essere della città desiderata B1 e B2 devono essere della città desiderata quindi devo dire che sono della stessa città B1 punto city uguale B2 punto city and la città è quella che vogliamo city uguale phoenix poi le revisioni devono essere dello stesso anno dell'anno selezionato allora R1 punto review date anzi l'anno deve essere uguale all'anno di R2 punto review date e questo anno deve essere il 2005 ok tutto questo quindi joint tra business review business della città review dello stesso anno diciamo che escludiamo che i business siano diversi and B1 punto business id sia diverso da B2 punto business id e alla fine un bel group buy B1 punto business id e B2 punto business id quindi se faccio eseguire questa cosa otterrò per tante coppie diverse i business id che magari le chiamo id1 e id2 se no non capisco cosa sono id2 e poi anche le stars le chiamo S1 e S2 così ho dei nomi delle colonne più quindi l'id del business 1 l'id del business 2 tutte le coppie per ciascuna avrò il numero di stelle medie dell'1 e il numero medio di stelle del 2 a me interessano solo i casi in cui S2 sia maggiore di S1 perché sono gli archi in salita e quindi aggiungo un having perché il filtro lo devo fare dopo aver fatto l'aggruppamento having S2 maggiore di S1 così escludo automaticamente sia il numero di stelle uguale quindi se ho 0 sia il contrario cioè gli archi che tendenzialmente andrebbero da un business che ha più stelle a un business che ha meno stelle e quindi rifaccio eseguire questo e mi vengono fuori questi che dovrebbero essere gli archi da aggiungere al grafo due commenti più tutti quelli che salteranno fuori dalle domande ma il primo è la domanda di Francesco Francesco mi dice ma io perché perché mi metti business diversi potresti mettere maggiore così eviti di considerare tutte le volte due coppie e sì però io a priori sicuramente tra il business A e il business B mi serve solamente considerare una volta però io non so ancora se la freccia dovrà andare da A a B oppure da B ad A quindi se io metto questo maggiore considero in realtà uno solo dei due casi e poi nel codice Java dovrò andare a vedere guarda S1 è più grande di S2 o S2 è più grande di S1 si può fare assolutamente si può fare io ho tagliato la testa al toro dicendo ok senti consideriamo tutte le coppie e poi già nel SQL vado a filtrare quelle che hanno S2 maggiore di S1 e quindi già mi trovo solamente gli archi già nell'ordine giusto e non devo andare magari a pensare archi nell'ordine inverso e poi invertirli cioè farlo da B1 da B1 a B2 oppure da B2 a B1 a seconda che S1 sia maggiore di S2 o viceversa quindi questo mi sono un po' semplificato la vita per questo ho anticipato nell'acquiri un lavoro che avrei dovuto fare nel codice Java se invece avessi scelto arbitramente un ordinamento delle coppie da considerare ok seconda osservazione è una regola del dell'SQL che tanti si dimenticano ogni volta che usa gli operatori aggregati SOM COUNT e MEDIA alla fine sono SOM COUNT e AVERAGE poi ce ne sono altri ma insomma questi sono i principali ok quando un operatore aggregato deve esserci un contratto forte tra la riga SELECT e la riga GROUP BY nel senso che nella riga SELECT possono comparire solamente o i campi che sono nei GROUP BY oppure campi che sono soggetti a un operatore di aggregazione ok questa è una regola è la regola di di correttezza cioè affinché un GROUP BY abbia senso affinché il GROUP BY abbia senso dico il contrario visto che nel GROUP BY io prendo tante righe e le collasso in una sola tutti i campi che in queste righe che sto per collassare sono diversi che valore dovrò restituire se io mettessi qua R1 punto che non so la data no review date e ho capito io in realtà di questa review date ce ne sono una per ogni review ogni review ha la sua data però poi visto che tutte le review vengono collassate in una riga sola grazie al GROUP BY che non contiene più informazioni sui review ma solamente sui business che data va a finire qui? allora concettualmente è sbagliato perché sto facendo un campo che nell'operazione di proiezione è scomparso sto richiedendo il valore di un campo ciò che vi da MySQL o vi da MariaDB è semplicemente il primo valore che trova però è uno di tanti che da solo non vuol dire nulla ok? quindi cerchiamo sempre di fare attenzione di rispettare questa regoletta di correttezza cioè se io ho un operatore di aggregazione e un GROUP BY devono essere legati così cioè nel select ho solamente posso avere solamente gli stessi campi che ho nel GROUP BY oppure dei campi che siano a loro volta aggregati allora a questo punto ovviamente l'operatore di aggregazione mi dice come mettere insieme potrei avere il minimo della data non ci sarebbe problema ma la data in quanto valore puntuale no perché l'ho collassata e quindi non so che valore restituire Matteo Matteo mi chiede puoi fare la differenza tra le medie? ah vai potremmo chiamarla qua aggiungiamo un campo differenza scusate S1 S2 meno S1 Sdifferenza e quindi facciamo già il calcolo qua il problema è che non funziona perché in pratica l'ordine con cui vengono eseguite le operazioni della query è diverso e quindi l'aggregazione viene calcolata dopo l'associazione delle colonne quindi praticamente nel momento in cui diciamo il database processa la riga select non ha ancora processato il valore di S1 e S2 che saltano fuori dall'aggregazione allora quello che dovremmo fare dovrebbe essere se non sbaglio scriverlo per esteso quindi non usare S1 e S2 ma usare di nuovo average quindi farglielo di fatto ricalcolare così in questo caso dovrebbe venire a posto allora se faccio così allora posso anche buttare via R1 e R2 mi tengo solamente la differenza e vado a fare controllo che la differenza sia maggiore di 0 questo potrebbe essere una buona idea quindi anziché S1 e S2 semplicemente metto differenza maggiore di 0 allora a questo punto ho già proprio il peso è abbastanza equivalente ok semplicemente l'unico vincolo è che non posso sulla riga select fare delle operazioni su valori della riga stessa perché purtroppo viene fatto in ordine diverso l'ordine con cui il database elabora la quid non è lo stesso ordine con cui viene scritto però così può andare bene allora questo potrebbe essere la query che mettiamo nel nostro database nel nostro DAO per restare gli archi e ci dovrà dare degli oggetti che sono i D1 i D2 e differenza quindi dobbiamo crearci un oggetto che rappresenta l'arco che contiene due stringhe e un double e poi grazie a questo dovremo andare a popolare il grafo degli archi estratti da qua e allora qua tornerà utile la ID map di cui parlava se non sbaglio Alessandro prima perché ho solo l'ID mi serve l'oggetto vertice e quindi dovrò in qualche modo andarlo a ricercarlo lì dentro e quindi sicuramente in questo caso aggiungeremo anche un ID map per poter fare questa operazione io direi che in questo momento adesso rispondo ancora le domande e poi possiamo fare una pausa e il codice relativo a questa parte lo possiamo diciamo così realizzare dopo ormai siamo alla fine diciamo del punto 1 però possiamo fare dopo l'esercizio visto che anche qui ci sarà un po' di codici da scrivere abbiamo lavorato parecchio su questa query rispondiamo solo a Giorgia che dice faccio fatica a capire una cosa se noi vogliamo confrontare la media delle stars business 1 con la media delle stars business 2 questo group buy non perdiamo qualche dato dal momento che raggruppa per le coppie B1 e B2 e non separatamente per B1 e per B2 allora ricordiamoci che le join sono dei prodotti cartesiani ok quindi proviamo a guardare questa stessa query senza filtro senza il controllo quindi l'ho fatto una copia e magari ci mettiamo di nuovo le stelle così lo vediamo quello che vedi è che questo primo ID che inizia con VBA viene riportato tante volte ovviamente una per ogni possibile business 2 però il numero di stelle medio è sempre lo stesso per lui perché la media viene calcolata prima dell'aggregazione in pratica questo 5 di questo secondo ID2 sarà uguale ricomparirà di nuovo come 5 tutte le volte che comparirà ID2 questo perché vediamo se riesco a spiegarmi io quando faccio la la select prima dell'aggregazione avrò tutti i possibili tutti i possibili valori con tutti i possibili con tutte le possibili combinazioni il valore della media il calcolo della media allora vi hai fatto prima i gruppi no ma condivido il tuo dubbio infatti sono condivido il tuo dubbio perché dici guarda se io avessi il questo questo il ok provo a dirlo così il tuo dubbio è dice ma guarda che io potrei avere una media quando questo primo business è accoppiato a questo potrei avere un valore della media che è diverso dal valore che otterrei quando questo business è accoppiato a quest'altro ok quindi il dubbio è legittimo però per come è fatto questo database in realtà ci immaginiamo che ci sono tante coppie con cui questo è accoppiato con tutti gli altri e questo è accoppiato con tutti gli altri e questo è accoppiato con tutti gli altri e ogni volta ci saranno esattamente le stesse stelle ricopiate perché io sto facendo di fatto il prodotto cartesiano di una stella che dipende solamente dal business 1 e un numero di stelle che dipende solamente dal business 2 quindi quando io vado a fare i sottogruppi all'interno di ciascun sottogruppo ciascun business è ricopiato tante volte uguale a se stesso e quindi nel sottogruppo in cui questo è accoppiato con questo ci saranno delle stelle nel sottogruppo in cui questo sarà accoppiato con quest'altro ci saranno le stesse stelle quindi concettualmente il calcolo è diverso perché sto sommando valori di sottogruppi diversi giustamente hai ragione ma in questo caso i valori sono uguali perché quello che sto facendo qui è prendere per ogni business 1 tutti i business 2 e tutte le review scusatemi per ogni review 1 tutte le review 2 ma poi le ricopio uguali quando andrò a prendere un business diverso si potrebbe vedere prendendo una città molto piccola con pochissime review e togliendo l'average e vedendo veramente i valori che vengono fuori e si vede che appunto le r1.stars c'è un gruppo di valori che poi si ripete uguali che poi si ripete uguali si ripete uguali nei vari sottogruppi quindi quando faccio leverage sul sottogruppo per costruzione direi viene fuori lo stesso valore di fatti ciò che stiamo facendo qui è come se facessimo una sottoquiri id1 r1.stars queste due colonne un'altra sottoquiri con le altre due colonne id2 r2.stars e poi le combinassimo insieme le combinassimo insieme col vincolo che le stars devono essere in un certo modo di nuovo è una conseguenza del fatto che in questo database la quantità che calcolo dipende solamente dal business e non dipende dalla vera non c'è vera interazione tra questi business ok spero un pochino di essermi convinto ma anche di averti un pochino convinto Corrine mi chiede con questa query sta escludendo i casi in cui la media di r1 sia maggiore di quella di r2 no questa query qua senza leaving mi è solo servita per ragionarci ok la query vera è quella con leaving questa è quella vera ok nella seconda query Corrine è solamente per capire insieme a Georgia bene perché funziona va bene ci facciamo un po' di pausa poi mettiamo sotto forma di codice Java anche questa creazione degli archi se chiudo una tab query per sbaglio c'è modo di aprirla sì sì ma vuota però non credo che ti possa recuperare la tab con la query precedente dopo che l'hai chiusa ok facciamo una pausa sono le 10.20 scarse riprendiamo le 10.30 se vi va bene 12 minuti di pausa così poi finiamo l'esercizio r1.stars meno r2.stars chiede Lorenzo mi farebbe la differenza tra due review puntuali e quindi qui fare la media delle differenze che non è la stessa cosa della differenza tra le medie ok stoppiamo la lezione ci rivediamo tra un attimo alle 10.30 nel frattempo sento Leonardo che cosa ci vuole chiedere offline